La situazione è positiva, abbiamo vissuto, stiamo vivendo una fine dell'anno 2021 molto buona, con richieste forti da parte dei consumatori e produzioni che stanno ancora facendo un po' fatica in qualche maniera a uscire dai problemi del Covid. Ovviamente quando la domanda è forte e l'offerta fa fatica a seguire, i prezzi di conseguenza non possono far altro che salire e lo vediamo proprio in questi giorni. Oltre ai prezzi è chiaro che c'è anche una salita dei premi perché devono tener conto di tutti i problemi della logistica internazionale che sono andati accumulandosi negli ultimi mesi e che oggi sono nodi che sono giunti al pettine e in realtà non si sa ancora bene come superare sostanzialmente. Grazie